buon pomeriggio a tutti e stamattina quando ha parlato salvatore pace e ha parlato di un libro che io non conoscevo di jean allouche che si intitola la psicanalisi è un esercizio spirituale ho detto accidenti io che credevo di essere stata originale mi hanno rubato l'idea no veramente mi hanno anticipata comunque sarà sicuramente una cosa di cui discutere allora il titolo di questo intervento mi è venuto durante la lettura di un filologo filosofo sempre francese che si chiama pierre adò e che io non conoscevo assolutamente ne ho sentito il nome mi ha incuriosito sono andata a leggerlo ed è stata per me un incontro veramente molto molto interessante questo autore mi ha sorpresa in particolare per per la sua semplicità lui riesce a parlare di filosofia lui è un grande conoscitore in particolare della filosofia antica ma non solo perché poi di plottino ma anche di alcuni moderni e in pratica lui fa storia della filosofia e fa filosofia facendo storia della filosofia cosa che a me non è capitata tanto spesso di incontrare come modalità e soprattutto nella lettura ho trovato tanto rispetto del lettore degli altri perché il fatto di poter parlare in maniera semplice che non vuol dire facile tante volte di questioni molto impegnative denuncia proprio questa lui vuole farsi capire in pratica ha un intento formativo e per avere un e per poter formare bisogna farsi capire in un modo o nell'altro trovare il modo e mi stupisce la sua umiltà nel consegnare ai lettori un sapere ampio e profondo ma non per questo solo erudito proprio perché umile adò partecipa attivamente al sapere che ci propone dice sempre la sua nonostante si vanti della sua obiettività è curioso perché sembra una contraddizione eppure e mi è capitato non molte volte dicevo egli riesce a parlare dei filosofi antichi facendo filosofia e non semplicemente storia della filosofia come capita spesso egli ha la massima cura nel lasciar parlare gli autori attraverso di sé un esercizio di libertà e di rigore nello stesso tempo non è una cosa comune ho provato con quest'autore un'affinità e col suo pensiero e questo è stato per me una fonte di gioia i cardini della filosofia di adò sono come per i filosofi antichi socrate prato negli stoici e anche altri anche per adò la filosofia non può e non deve essere soltanto una teoria ma se è filosofia coinvolge necessariamente l'intera vita della persona che la pratica la vita di un aspirante filosofo e un filosofo è sempre un aspirante filosofo è una vita in formazione e in trasformazione perché la formazione porta necessariamente una trasformazione un altro punto cardine fondamentale nel pensiero di adò è la funzione e l'importanza degli esercizi spirituali noi a volte siamo siamo portati almeno io in un primo momento pensato esercizi spirituali religione è la cosa che in effetti ho capito proprio leggendo adò che è la cristianità che si è impossessata degli esercizi spirituali della filosofia antica sant'ignazio di loiola è stato il fondatore degli esercizi spirituali cristiani l'esercizio spirituale nasce con socrate nella forma del dialogo come esigenza di rigoroso controllo razionale ogni esercizio spirituale è dialogico nella misura in cui è esercizio di presenza autentico a sé e agli altri quindi non è almeno io ho sempre pensato ancora all'esercizio spirituale fatto in solitudine non è così almeno per questo autore e per tanti altri ovviamente il libro di adò che ho trovato più illuminante è la filosofia come modo di vivere un testo in forma di intervista che proprio per questo si presta in maniera particolare a portare in luce il suo pensiero nonché l'importanza dell'oralità nella pratica della filosofia adò si stupisce che molti filosofi di tutte le epoche successive a quella antica considerano gli antichi incoerenti e mediocri scrittori questo giudizio nasce dall'idea che la filosofia sia un sistema e per questo non possa avere caratteristiche se non di coerenza e forse di perfezione nasce anche questo giudizio dalla convinzione che la teoria e la pratica siano separabili la teoria serve a costruire un sistema di pensiero di concetti dove non ci possono essere contraddizioni o incoerenze la pratica è l'esistenza con tutte le sue contraddizioni e incongruenze le opere filosofiche dell'antichità non sono composte per costruire e esporre un sistema bensì per produrre un un effetto formativo il filosofo voleva far attivare gli spiriti dei suoi lettori o ascoltatori per indurli a una certa disposizione d'animo ci sono state scrive adò due concezioni opposte della filosofia una che mette l'accento sul polo del discorso l'altra sul polo della scelta di vita già nell'antichità sofisti e filosofi si affrontavano i primi cercavano di brillare grazie alle sottogliezze dialettiche o alla magia verbale i secondi chiedevano ai loro discepoli un impegno concreto in un certo modo di vita e adesso vi leggo una citazione d'ado credo che i filosofi non riusciranno mai a liberarsi dell'autocompiacimento che provano nel piacere di parlare per restare fedeli all'aspirazione all'ispirazione profonda potremmo dire socratica della filosofia bisognerebbe proporre una nuova etica del discorso filosofico in virtù del quale si rinuncerebbe a considerarla come fine a se stesso o peggio ancora come mezzo per esibire l'eloquenza filosofica rendendolo invece strumento di superamento di se stessi e di accesso al piano della ragione universale e dell'apertura al prossimo mi sono chiesta a questo punto quanto anche anche nel nostro lavoro di psicanalisti dentro e fuori dello studio abbiamo rinunciato in termini di autenticità in favore di quell'autocompiacimento che si prova nel piacere di parlare e quanto questa rinuncia sia collegata a un presunto potere legato al riconoscimento sociale sono stati proprio questi fondamenti filosofici che mi hanno attratta rispetto a dadò perché mi hanno ricordato se me l'ero dimenticato ma non me l'ero dimenticato che anche la psicanalisi è innanzitutto una pratica la teoria le teorie quella di freud di lacan e di altri per ciascuno poi c'è ciascuno ai suoi maestri fra virgolette sorte peraltro dalla loro pratica fanno da sfondo al nostro lavoro ma le teorie hanno un valore se possono essere messe alla prova rinnovate proprio attraverso la pratica che di ciascun analista la formazione e la trasformazione che si producono nell'analisi si forniscono il materiale per articolare e arricchire la teoria la psicanalisi alla fine quindi come la filosofia anche la psicanalisi forma e trasforma è una pratica etica e di conseguenza politica non a caso nell'antichità le scuole filosofiche formavano gli uomini politici innanzitutto con questo non voglio certo perorare la causa delle scuole di psicanalisi molto meglio le comunità passo alla psicanalisi in senso proprio e a freud come metafora del lavoro dell'analisi freud evoca le paludi marittime dello zuidersee un tratto piuttosto esteso di mare basso che fu bonificato dagli olandesi in vari periodi della prima metà del 1900 come i paesi bassi sono riusciti a rubare al mare terre poi diventate fertili così l'analisi può rubare terreno all'inconscio per portarlo attraverso la coscienza a lavorare per la civiltà quale civiltà ci si potrebbe chiedere se freud stesso nel disagio della civiltà mostra che ogni progresso della civiltà e scusatemi per le ripetizioni è un danno per la felicità dell'individuo in fondo rinunciamo alla felicità per un po di sicurezza questo lo dice ben freud parecchio tempo fa oggi dobbiamo dire inoltre che quel poco di sicurezza è proprio poco forse la rinuncia è più grande della sicurezza che otteniamo diamo per scontato che la civiltà sia una costruzione stabile che si regge da sé eppure la storia ci insegna che non è proprio così quella che chiamiamo civiltà ha prodotto in alcuni momenti oltre che grandi avanzamenti in termini di opere umane artistiche scientifiche di pensiero anche delle terribili regressioni che hanno rischiato di distruggere l'umanità quindi la civiltà non è stabile ciascuno di noi deve lavorare affinché soprattutto diventi più giusta per quanto riguarda gli esercizi spirituali che di cui il titolo parla come può avvenire mi chiedo che in analisi si produca un passaggio dall'inconscio alla coscienza il titolo che ho dato al mio intervento l'associazione libera come esercizi spirituali come esercizio spirituale è sorto da questa domanda sappiamo che l'associazione libera è un caposaldo dell'analisi regola fondamentale della cura psicoanalitica e mezzo privilegiato per venire a sapere qualcosa dell'inconscio sappiamo che si tratta di un metodo secondo cui il paziente deve esprimere durante la cura tutto ciò che gli viene in mente senza alcuna discriminazione siccome noi per primi abbiamo fatto un'analisi sappiamo che questo è molto complicato difficile impossibile direi però tendiamo a questo freud è approvato è approdato al metodo dell'associazione libera dopo aver rinunciato all'ipnosi di cui ha parlato ampiamente stamattina bremont consapevole freud di rinunciare a una parte del potere che nell'ipnosi si produce in questo modo ha anche lasciato al cosiddetto paziente molta parte della responsabilità del suo destino mi sembra che questo passaggio fondamentale attraverso il quale è nata la psicanalisi rappresenti una grande sovversione una possibilità incalcolabile per ciascun soggetto che decida di continuare a formarsi ad essere tale niente a che vedere allora con il sapere medico e con quello che conosciamo come intervento sanitario l'associazione libera dona all'analizzante la possibilità di conoscere qualcosa del suo desiderio inconscio e del fantasma che lo sostiene quale migliore esercizio spirituale per i filosofi antichi gli esercizi spirituali consistevano in un continuo richiamo all'ordine etico attraverso la coscienza prima di tutto per se stessi e poi per la comunità per la comunità filosofica soprattutto per quanto riguarda l'esercitarsi a morire questo è uno dei capisaldi della filosofia in particolare di socrate platone il filosofo si avvale della coscienza meglio ancora dell'anima razionale adimira l'allontanamento dalle passioni dai desideri da tutto quello che può forviare l'uomo dalla razionalità e dal bene nell'analisi la via sembra più facilmente praticabile proprio grazie alla pratica dell'associazione libera che concede qualche spiraglio di conoscenza dell'inconscio avevo poi parlo un attimo del leggendo a dove mi è venuto in mente un filosofo morto molto giovane comunque contemporaneo che ha scritto nei primi del novecento la persuasione la retorica si tratta di carlo micastetter che ha che è stato uno di filo un filosofo nel vero senso della parola lui prende la questione da un altro punto di vista di ado però anche per lui la filosofia non è un sistema lo dice in molte in molte in molti modi la filosofia non è sistema a suffragare il suo pensiero gli chiama in causa i grandi uomini lo disse cristo e ci fabbricarono sulla chiesa lo dissero ai greci parmenide eraclito e impedocle ma aristotele li trattò da naturalisti inesperti lo disse socrate e ci fabbricarono quattro sistemi agli italiani lo proclamò petrarca trionfalmente lo ripete con dolore leopardi ma gli uomini furono loro grati dei bei versi e se ne fecero generi letterari cioè il tentativo di sistematizzare fa parte proprio della natura umana nel senso che da sicurezza il fatto di sistematizzare ci dà sicurezza evidentemente però lascia fuori un sacco di cose molto interessanti a proposito della tentazione costante il libro suo più famoso è la persuasione e la retorica la persuasione mi sono persa cercando di a proposito della tentazione costante verso la retorica a sfavore della persuasione e gli continua dicendo gli uomini se non riusciranno a intendersi certo riusciranno a intendersela questa al giorno d'oggi mi sembra una cosa che ci sta proprio a pennello intendersi è lo spazio della persuasione e persuaso è colui che ha in sé la sua vita di dice miche stetter intendersela è quello della re è lo spazio della retorica e per il nostro carlo la retorica alla meglio tra gli umani che attraverso di essa in tutte le sue forme vengono a patti con la vita per paura della morte queste sono questioni immense che ho solo accennato perché questo mi è stato ricordato appunto da dalla filosofia di ad hoc cioè non c'è solo hegel non ci sono solo i filosofi cosiddetti classici ci sono anche dei grandi geni che sono anche molto molto meno conosciuti e concludo proprio concludo ed è una conclusione in cui prendo spunto da Ettore perrella e da un libro che ho trovato rispetto agli altri che già per il volume mi fanno un po paura ma anche perché sono complicati questo è un libro che consiglio a tutti di leggere e che si intitola dietro il divano lettera manuale per i giovani analisti se ce ne sono ancora perché mi mi ha come dire mi ha aiutata ecco a capire anche alcune cose che per altri versi è più complicato capire e scrive per ella proprio nell'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo a conclusione del libro ma anche voi miei giovani colleghi vi siete assunti il compito di trasmettere ad altri un'esperienza viva certo non siete i soli i mestieri impossibili di cui parlava freud sono tre e se psicanalizzare sarà sempre un compito per pochi gli altri due educare governare sono invece un compito per tutti quindi non siamo pochi se tutti lo sapessimo potremmo dare davvero un contributo a far girare le cose un po meglio non solo nell'analisi e certo non è poco anche nella vita quotidiana un'analisi in fondo a cos'altro serve se non per imparare a vivere un po meglio ma mi chiedevo come si può trasmettere una esperienza viva vivendo un'esperienza viva evidentemente e prendendosi il compito di trasmetterla ad altri come tale ciascuno nel suo ambito come psicanalisti anche traendo dalla propria pratica conseguenze tali da rinnovare la teoria psicanalitica attraverso la pratica per un analista è un'esperienza viva ad esempio quella che gli dà la possibilità di non essere mai un principiante e di esserlo sempre come per il filosofo di essere sempre un aspirante filosofo di rimanere per tutta la vita una sceta nel senso etimologico del termine cioè qualcuno che si esercita senza mai essere garantito che un proprio atto riuscirà è così per tutti i mestieri impossibili quindi per l'educazione l'insegnamento e per la politica sicuramente un'esperienza viva è quella che non tiene separata la teoria dalla pratica scusate sono fuori di tanto no grazie a tutti grazie grazie grazie